Hola bebe's, come state? Benvenuti in questo nuovo video, ormai lui lo sa a memoria e ho un invitato speciale come avete già visto, c'è il mio amore, oggi come la registrare? Ok, va bene, allora non so se avete già capito dal titolo ma oggi faremo tipo, sarebbe tipo un boyfriend tag ma un po' diverso perché se lui sbaglierà le risposte io gli butterò un po' di panna in faccia cioè adesso io avevo tantissimi piatti di plastica solo che gli ho dati tutti a mia mamma quindi faremo che lo metto nella mano e lo faccio così nella sua non è vero? si, si, no, non è vero no, lo faccio piano, lui ha fatto, lui si è scritto tipo sette domande e pure io quindi iniziamo subito no, io sei però a lui sei, però dopo se gli viene in mente qualcosa me lo dice iniziamo subito perché se no questo video diventa un po' troppo lungo iniziamo subito allora, la prima domanda è di quante settimane ero quando ho scoperto di essere incinta? due mesi quante settimane? ah, due mesi sono otto settimane ok, bravo tieni ok mi tocca a me? si allora allora, questa è difficilissima qual è stato il primo regalo che ti ho fatto? che ti ho dato? che ti ho fatto? oh sì, il braccialetto quello con l'elefante oh, grazie no, 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 hai sbagliato dopo te lo dico però dopo la parola eh no, hai la possibilità così oddio ma veramente non era quello? no, ho sbagliato quella è la seconda quella è la seconda vabbè come te lo dovevo mettere? mettiamelo in faccia così? oh oddio, ma me è sbagliato aspetta, non ho preso le soviete di Mati aspetta aspetta ok dai, ma qual'era? la rosa è vero la sai che ci ho pensato dopo? quello è stato il primo regalo del mese di danza mese, è vero? e quello è stato un regalo così, ma quello vale come regalo perché è sempre un regalo ah ah ok 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 va bene allora anche bello se poi ci abbiamo fatto basta qual è la mia serie preferita? eh oddio, aspetta ce ne ho in mente però non vorrei sbagliare allora, serie preferita ma te ne hai tante di serie preferita però ne ho una uno in particolare si poi mi viene quella lì stringer things si quella? no no in realtà volevo dire lit però ho fatto ci pensate però ho detto perché mi ha rotto il cavolo per un medico ok vai allora la mia seconda domanda è qual è stato il mio giorno più bello? quando è nato Mati? sbagliato un'altra pannata no te lo giuro dai ma non è il giorno più bello? no ok no sì però prima che nascesse Mati quindi vado? mh seconda pannata e qual era? e quando ti chiesti di stare insieme con me che carino oh due su due no ok 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 vediamo come si chiamava il mio primo cane? te l'ho detto eh il tuo primo cane si chiamava... te ne hai due? cioè prima ne ho avuto uno e come è uno? non c'avevi due maltesi? ne avevo tre ma prima mi è arrivato uno il primo e poi si ah ehm io ce l'ho ce l'ho ce l'ho aspetta però non mi ricordo no addio l'ho 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 devo contare no no ma che conti? conto conto dai faccio il conto alla rovescia? 10 9 8 8 mi viene squinti ma non hai squinti 5 4 3 2 aspetta non mi viene 2 1 6 no ce l'ho non mi ricordo ok 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 come si chiamava? no prima te lo dico ah vabbè cioè prima cioè prima faccio poi non ho nei capelli eh no non ho nei capelli no è che tu hai i capelli fin qua sotto scusami eh te lo dico? Winnie 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 è vero Winnie no non usiamo tutte le stesse ok usiamo la carta è di smatto smatto dopo le finiamo allora quindi sta 2 a 1 2 a 1 ok allora questa può essere difficile anche io allora come si chiama la moto che vorrei comprarmi quando avrò tanti 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 soldi il nome poi c'è anche che non mi ricordo neanche come si chiama dai non mi ricordo non mi ricordo si chiama tipo Dangerous vabbè non lo so come si chiama si chiama la Ducati si ma ti ho detto il nome preciso qual è la marca della moto il nome della moto si chiama si chiama non la sto guardando te lo giuro io non paro eeeh me lo so dopo so che è una Ducati però non era tipo Dangerous no Clint no quando è che devo iniziare a raccontare? da adesso allora 10 no 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 8 non lo so veramente come si chiama 7 6 5 ma non basta Ducati 4 no già no ti avrei messo qua la moto ho preso il nome completo 3 2 1 maaaa fino a primo tempo come si chiama Ducati Street Fighter V4 madonna ah te l'avevo detto prima che ve la faccio vedere almeno così se vuoi vedere quanto che moto mi comprerà lei che è questa qui ah tipo è bellissima te lo dico sempre beh mi metto di mero sì ma io io la guardo però non sto a vedere il nome te l'ho messo poco è troppo buona la panna un'ossessione che ho assolutamente che mi piace da morire come un'ossessione ah un'ossessione anche un'ossessione che hai che mi piace da morire avere cosa vuol dire che ti piace avere no una cosa che mi piace avere un sacco ah uno studio no sbagliato aspetta no no hai detto oh mi è andata la panna dell'altra no però non è nei capelli non è nei capelli sennò mi metto di fare il video no no non è nei capelli dai amore come no lo sai che cosa mi piace un botto non così tanto poi a me la panna non mi piace neanche dai no poi va bene ok i profumi amore ah ma te ne un botte di appunto ossessioni no però i profumi un botto si ho capito ma non puoi dire l'ossessione è un'ossessione si vabbè lo sai che è un'ossessione vabbè vabbè anche a me ho dato la panna dell'oro oh queste erano le tue questo allora vediamo c'è questa oh te ne hai neanche una io almeno quante ne ho indovinati no forse una l'hai indovinata no quale è stato il mio primo regalo che ti ho fatto mi è sbagliato quel è stato il mio giorno più bello l'hai sbagliato come si chiama la moto che vuoi comprare l'hai sbagliato adesso vieni alla porta sei fortunata ok vai qual è il mio sogno nel cassetto? è diventa il parrucchiere? no non più credo no no dai dai te lo dico sempre ho con te e mia mamma ho con te e mia mamma cioè con te e mia mamma però non vai vado? vai ho beati tutti ok vado io vai non so quanti siamo adesso quanti siamo e te qual è la realtà domanda? quarta tu hai iniziato prima ok quindi che sarà quindi allora qual è il mio cibo preferito? eh vabbè ma ti dici delle cose che ce n'è uno? in assoluto se ti trovo a vedere da cosa tu hai il mio cibo preferito quindi che cazzo voglio c'è una volta che mi hai dato mamma io sono il mio cibo preferito ah questo è il mio cibo più buono che avevo mai mangiato e io che mi faccio a capire beh ecco io adesso che mi ricordo mi sa l'insevoiato i gamberi vabbè ma il cibo il piatto il cibo tipo non il piatto qual è il mio cibo preferito? ho detto non il piatto vabbè tu hai detto che vorrei essere un gambero nella prossima vita? oh proprio poca povera va bene così guarda ci hanno messo pochissimo che in realtà dovrebbe essermi un sacco e tipo da fare poi io l'odio la panna ok poi vanno tutti i miei baffi ma mi è andato nel naso te la ricordi la tua prossima domanda? no la devo leggere non mi ricordo allora la mia paura più grande oddio me l'avevi detto un'altra volta tutto quello che ti ho fatto ti ho detto che tu non ti ricordi tipo la morte? beh oh oh che palle allora dimmi che cos'è eh te lo dico eh dimmi mentre ti faccio la panna eh stare da solo oddio sono me ho fatto non ce le vuoi dai qui buono mi raccomando non mi lasciare mai adesso io il giorno che abbiamo parlato per la prima volta dove? sul telefono? no 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 faccia faccia lì quel giorno andò dal cabbaro cosa vuol dire il primo giorno? quello è stato il giorno che abbiamo parlato per la prima volta? che giorno era? ah il giorno esatto? ah di nuovo che cazzo 3 aprile? no sbagliato no non è vero il 13 no il 13 è vero sbagliato eh ah sì 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 ah mmm poca mua aspetta che devo salutare ah mi sta lacrimando l'occhio ok quante domande ho fatto? sei? è anche l'ultima tipo vero? sì no eh questa era la quinta no te era la tua era la quinta eh no la mia era la quinta e la tua era la sesta quindi io dovrei devo fare la sesta allora ok questa è mia allora cioè se devi essere precisa come tutta l'altra non devi essere valore tipo scrivere lucati o ne scrivi a dire lucati devi dire le cose precise allora date precise di quando sono venuti in italia eh eh aspetta so che a settembre aspetta 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 è comprensione mia mamma il 3 eh sì sì no precisa precisa e poi del 2006 sì brava no nel 2004 no 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 cos'è che c'è stato nel 2006? il big bang no ha vinto l'Italia il mondiale dai miei prezzi no pure l'avevo fatto bene no 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 che te lo dicevo sempre è tipo una cosa che mi faceva è tipo schifo nella gravidanza che le prime settimane te l'ho fatto anche cambiare una cosa una cosa era la mattina era una cosa che mi faceva schifo che ho detto no dobbiamo cambiarla la mattina cosa vuol dire che una cosa c'era una cosa che mi faceva molto schifo la mattina e ti avevo detto che dobbiamo cambiare una mattina vabbè sì il profumo no vai dai vabbè ti metti nella panna cos'era? era il dentifricio ah di no così tanto però c'è devo fare per mangiarla vai guarda la mia ultima ok adesso la tua ultima eh questo non l'avevo fatto perché non mi ricordavo cioè non è che non mi ho niente niente Non ti viene in mente neanche adesso, niente? Eh, questo è facile, qual è stato il mio primo mestiere? Non contando, facciamo, non contando mia mamma A nonna? No, il mio primo mestiere, sì, quello non ho detto il posto E l'aiuto cuoco? Beh, sbagliato No, dai! Ho sbagliato, Dio Come si chiama? Sushi, sushi, ma hai fatto il sushi per adesso Beh, però è un aiuto cuoco No, sì, ok, però il sushi Sushi, lo stavo a perdere, sushi, sushi Dai Dai, l'ho sbagliato tutto Sì Dai, perché questa era l'ultima L'occhio Ok, abbiamo finito le domande Ho vinto io, te quanto ne indovinate? Zero No, no, zero, zero, zero Io ne andovinate due a tre Va bene, vuol dire che non la conosco E comunque, niente, queste erano tutte le domande E spero che vi sia piaciuto questo video Che vi siete divertiti Se lo volete un po' di più del mio canale Scrivetelo giù nei commenti Così magari lo riesco a convincere No, no, primo e ultimo Non è vero E poi, niente, per qualsiasi domanda Lo sapete già Nei commenti O nel mio Instagram Che lo lascio qui E giù nell'info box Perché lo lasci? Qui E allora come vanno a vederlo? Eh, glielo scrivo Ah, lì, non qui, lo lasci Dai Vabbè che mi rispondi anche Dai Sì Allora